vuoi assaggiare? dov'è l'altro? di là facciamo una tozzina? ciao facciamo una tozzina ciao iniziamo accendi il forno 200 gradi statico imburra le tue formine e poi vai a sciogliere cioccolato e burro nel microonde io faccio prima una passata con il cioccolato e poi aggiungo il burro se non hai il microonde vai a bagnomaria sul formello una volta raggiunta questa consistenza andiamo ad aggiungere il cioccolato e il burro insieme a noi insieme a noi Passaggio cruciale è la cottura a 200 gradi statico Nel livello centrale del forno 12 minuti Però fai attenzione perché tutti i forni cambiano